Avere un blog è senza dubbio un assetto molto importante per il nostro business digitale. Non è assolutamente obbligatorio, ma può essere molto utile. E le funzioni di un blog sono diverse. Sicuramente aiuta a coccolare la tua lista di iscritti, mantenendola attiva e coinvolta. Non solo, ma ogni blog post che crei può diventare una piccola landing page, una piccola pagina di atterraggio alla fine della quale, attraverso un pop-up o semplicemente un form, puoi invitare ad iscriversi per scaricare un freebie. Il problema è che creare contenuto di valore utile, originale, continuamente, con periodicità, richiede un certo tempo e non è sempre facile. Ecco perché questa puntata di Impact Girl è dedicata ad una serie di format particolarmente semplici e rapidi che ti consentono di creare ottimo contenuto in modo indolore, chiamiamolo così. O comunque, insomma, meno doloroso rispetto a quando devi sederti davanti a questa pagina bianca e scrivere dall'inizio alla fine. La prima tipologia di post particolarmente interessante in questo senso è il post intervista. Il post intervista consiste semplicemente nel intervistare qualcuno di particolarmente noto o esperto, è noto nella tua nicchia o esperto comunque di qualcosa di correlato a quello di cui ti occupi tu, pubblicando quello che poi dice, magari è un'intervista che registri in audio e poi trascrivi, sul tuo blog ottimizzato in ottica SEO. Una cosa che puoi fare con questo format è anche intervistare i tuoi clienti. Questo è qualcosa, ad esempio, che spesso facciamo per Beats Academy Club. E nel blog di Beats Academy c'è una sezione intitolata Beats Storie dedicata proprio alle storie di successo delle ragazze che fanno parte di Beats Academy Club. Il bello di questi post è che di fatto il contenuto viene creato per te e tu naturalmente devi semplicemente trascriverlo se non ti viene consegnato in formato scritto e ottimizzarlo in ottica SEO se vuoi posizionarti sui motori di ricerca. Quello che puoi fare, tra l'altro, per rendere questo lavoro ancora più semplice per chi poi è la persona che tu vuoi intervistare è strutturare il blog post sotto forma di vere e proprie domande. Domande che naturalmente devono avere un filologico tale per cui diventa un approfondimento utile e organico per chi legge. Uno spunto particolarmente utile in questo senso. Mi è capitato in passato di partecipare a qualche evento alla fine del quale mi veniva proprio chiesto esplicitamente, puoi per favore scrivere un blog post per il nostro blog. La risposta è sempre stata, o quasi sempre, è stata no. Già faccio fatica a scrivere blog post per il mio blog, non mi metto certo a scrivere per il tuo blog. Insomma è una questione naturalmente di poco tempo a disposizione che le figure che vai ad intervistare sicuramente hanno in comune e quindi quello che puoi fare è semplicemente chiedere di poter rispondere ad alcune domande che invii immediatamente chiedendo di rispondere nella modalità che più è funzionale per chi le riceve. Quindi non costringere chi le riceve a scrivere perché magari qualcuno è molto più rapido a mandarti un audio e non costringere qualcuno a mandarti un audio o a sentirti su Zoom se invece preferisce scrivere. Quindi fagli scegliere la modalità preferenziale, dopodiché mettilo nei panni di poter creare questo contenuto rapidamente in modo tale che sia un win-win per entrambi. Il secondo tipo di post particolarmente semplice e rapido da creare è il cosiddetto crowdsourced post, quindi un post per il quale tu fai crowdsourcing a un gruppo di esperti della tua nicchia o di una nicchia complementare a quella di cui ti occupi chiedendo loro di contribuire allo stesso post rispondendo ad una o più domande. In realtà questa è una modalità molto simile al post intervista solo che è molto più semplice per chi sta dall'altra parte perché tu non fai una decina di domande alla persona che sta dall'altra parte fai soltanto una barra tre domande, tre domande sono ottime perché così puoi creare più di un crowdsourced post su argomenti diversi e per la persona che sta dall'altra parte diventa ancora più semplice e rapido crearlo. Alcuni esempi di titoli ipotetici di un crowdsourced post potrebbero essere 10 imprenditrici condividono la loro ricetta per il successo oppure 5 sommelier spiegano come riconoscere un vino al primo assaggio. Questi post crowdsourced li puoi anche fare se hai già delle interviste fatte a più esperti su un certo tipo di tematica ad esempio se hai un podcast dove intervisti esperti periodicamente su tematiche più o meno legate tra loro puoi poi creare dei post crowdsourced utilizzando proprio degli spunti tratti da quelle interviste ovviamente avendo il permesso di poter utilizzare quel materiale ma se hai fatto un'intervista e l'hai pubblicata sui tuoi canali molto probabilmente questo permesso spero tu l'abbia ottenuto. Il terzo tipo di post che è particolarmente semplice da creare è il cosiddetto listicolo. Suona strano, è ovviamente un acronimo fra lista e articolo e i listicoli funzionano molto bene perché naturalmente sono rapidissimi da leggere ed hanno anche delle chicche che possono essere facilmente condivisibili poi sui social. Ad esempio se scegli di scrivere un post su le frasi da tenere a mente quando ti senti bloccato dalla paura poi naturalmente questi titoli sono fittizi e andrebbero verificati in termini SEO per capire quali sono le keywords più adeguate ecco che puoi aggiungere la frase, l'autore e puoi metterci anche un'immagine che puoi creare ad esempio con Canva che diventa un'immagine ancora più condivisibile sui social che si presta ad una condivisione sui social ancora più immediata. Ma ad esempio supponiamo che parli di libri legati ad un certo argomento per il quale ti vuoi posizionare oppure di strumenti legati ad un certo tema per cui ti vuoi posizionare ecco che allora puoi inserire i link di affiliazione e lo puoi anche dire. Lo puoi anche dire magari in un piccolo disclaimer alla fine questi sono link di affiliazione e puoi neanche fare una battuta, mi ci ha voluto un po' di tempo per creare questo post perché comunque richiede un minimo di ricerca e quindi sarò felice se vorrai acquistare questi libri o questi tools dal link che trovi su questa pagina. Ho ancora uno spunto da condividere con te ma prima un promemoria importante. Se stai ascoltando questa puntata dalla tua piattaforma podcast preferita si tratti di iTunes o Spotify ricordati di lasciare una recensione e di mandarci il screenshot della tua recensione alla podcast di Impact Girl all'indirizzo email team chiacciolabit-academy.it per ricevere l'accesso ad un training gratuito ma super approfondito sul posizionamento efficace utilissimo soprattutto se non sai come posizionarti in modo unico su un mercato particolarmente affollato. Ricordati che se lasci la tua recensione su Spotify non c'è purtroppo la possibilità di lasciare una recensione testuale solo le stelline quindi mandaci il tuo testo sempre all'indirizzo team chiacciolabit-academy.it insieme alla tua recensione e naturalmente noi andremo a pubblicarlo nella sezione dedicata alle recensioni e le esperienze con Impact Girl. Ora andiamo avanti perché abbiamo ancora un paio di spunti pratici prima di lasciarci. Una variante del listicolo che vorrei sottoporre la tua attenzione perché potrebbe risultare particolarmente utile è il cosiddetto post aggregatore. Il post aggregatore consiste semplicemente nel prendere non rubare ma prendere del contenuto da altri blog di settore di nicchia e metterli tutti insieme in un unico post, un unico posto e in un unico post all'interno di quel posto che è il tuo blog. Questo è molto utile soprattutto per diventare una sorta di punto di riferimento su certe tematiche, un aggregatore appunto. Ovvio che non vuoi soltanto prendere il contenuto ma lo condividi una parte aggiungendo naturalmente del testo originale. Nessuno vuole incorrere in penalizzazioni se ho per contenuto duplicato. Ad esempio 12 simpatiche ricette per la SAI. Ecco questa tra l'altro è tratta proprio da una mia esperienza recente cercavo una possibile ricetta semplice per il mio ASAI di colazione. Sto cercando di sperimentare nuove opzioni a colazione. E la cosa frustrante era che dovevo cliccare su ogni singolo sito che si posizionava che proponeva una variante diversa per questo ASAI. Ecco, se qualcuno in ascolto si dedica all'alimentazione, a un blog su queste tematiche magari potrebbe essere interessante, ovviamente sempre verificando in ottica se ha un senso strategico, creare un listicolo aggregatore che unisca tutte queste ricette in un unico posto in maniera tale che io possa scorrere velocemente e possa effettivamente cambiare la mia collezione. Scherzi a parte, un altro esempio di listicolo aggregatore potrebbe essere terribile questo nome però da rendere l'idea, potrebbe essere 6 cose che ogni neomamma dovrebbe avere in casa oppure 12 idee regalo alternative per la festa della mamma. Magari ne parlano in tantissimi e tu decidi di creare un unico post aggregatore, un listicolo aggregatore con tutte queste idee. Questo dà un grande valore all'utente perché naturalmente semplifica la sua ricerca e naturalmente non significa che puoi rubare questo contenuto, cosa che assolutamente non suggerisco. Metti sempre un link di riferimento al post originale, ma ricordati una cosa importantissima ed è questo è uno piccolo spunto SEO. Quando linki ad un sito esterno sulla cui authority da un punto di vista SEO non sei sicura, metti il link come nofollow oppure verifica che effettivamente abbia una certa authority. Non entro nel dettaglio del perché e il per come di questa cosa ma entro direttamente nella soluzione alternativa. Se questo sito non è un sito che da un punto di vista SEO è particolarmente ben messo, quello che puoi fare è andare a recuperare il profilo Instagram della persona che si occupa di curare questo blog e che si occupa naturalmente delle stesse tematiche e linkare al profilo Instagram. Quando tu linki a piattaforme social è praticamente indiscussa l'autorevolezza di quella piattaforma agli occhi di Google, quindi di solito vai sul sicuro. All'interno del nostro canale Instagram abbiamo più volte creato dei veri e propri post che hanno tutto l'aspetto di essere dei listicoli aggregatori ma ovviamente che sono stati popolati dalla nostra tribù. In altre parole abbiamo chiesto in diverse salse, in diversi format e con diverse angolazioni di condividere profili di account di imprenditrici creative che assolutamente vanno tenute d'occhio e sono arrivati centinaia e centinaia e centinaia e centinaia di commenti. Se non sbaglio il primissimo post ad oggi ha oltre 700 commenti, il primissimo post di questo tipo poi ne abbiamo fatti altri. Abbiamo utilizzato poi quei social post, i contenuti che erano stati inviati, i profili che erano stati inviati dalla tribù per creare dei listicoli aggregatori all'interno del nostro blog di Pizza Academy. Parlando di idee per l'imprenditoria femminile, i profili da tenere d'occhio in base ovviamente alle varie nicchie di riferimento su cui vogliamo concentrare la nostra attenzione. Questo è un altro esempio di listicolo aggregatore che praticamente ci ha costato pochissimo tempo proprio perché la lista e la selezione era già stata fatta dalla nostra tribù. Naturalmente ricorda che online è tutto un vaso comunicante, quindi una volta che abbiamo pubblicato il post in ottica SEO sul nostro blog, l'abbiamo ricondiviso nelle stories taggando i profili che abbiamo messo in evidenza, che a loro volta hanno ricondiviso con la propria audience quel blog post. Che dirti di più? Inizia a scrivere, hai tutte le idee che ti servono per cominciare a popolare il tuo blog in modo originale, rapido e indolore. Noi come sempre ci vediamo alla prossima puntata di Patgirl. Questo è tutto per la puntata di oggi. Se ti è stata utile condividila con altre imprenditrici e se cerchi altre risorse pratiche per far crescere la tua attività vola al sito beats-academy.it slash podcast e iscriviti per ricevere spunti pratici per far crescere il tuo business che condivido solo via mail. Fino alla prossima puntata metticela tutta e ricorda che qui facciamo sempre il tipo per te. Io sono Cecilia Sardeo e questo è Impact Girl.